salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video primo volo con il dji tello si perché ok che è un ottimo selfie drone quindi fa selfie ottimi è stabilissimo nel volo quindi tutte cose che già sappiamo ma proviamo a metterlo diciamo un attimo sotto pressione dal punto di vista delle riprese video e vediamo cosa in grado di fare in questo suo primo volo il nostro dji tello ciao 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 ok ragazzi questo primo volo con il dji tello è finito secondo me questo drone adesso con il son troller della game serie t1 d ha diciamo ottimizzato il suo valore quindi secondo me con questo video abbiamo dimostrato che questo tello è in grado di fare cose molto più grandi di lui e di non fare solo selfie ma anche di fare video per diciamo ambientazioni diverse da quelle che sono i selfie quindi ragazzi se questo video con il tello è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale sono avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao